Per la parrocchia San Rocco di Fratta Maggiore si conclude l'anno giubilare. In occasione dei 100 anni della nascita della comunità parrocchiale, alle 18 di domani, Telecleb Italia trasmetterà in diretta la celebrazione che chiude i festeggiamenti. Vivremo la celebrazione eucaristica con cui concluderemo il giubileo inaugurato in occasione del centenario di reazioni a parrocchia. Ricorda il 13 maggio la data in cui fu inaugurato alla parrocchia con il possesso canonico del primo parroco, Don Nicola Capasso, futuro Vescovo di Acerra. Abbiamo anche la felice coincidenza del ventesimo di ordinazione episcopale del nostro Vescovo, Monsignor Angelo Spinillo. In occasione della chiusura del centenario verrà inaugurato anche il nuovo sito internet in cui verrà lanciato anche il video attraverso il quale verrà fatta la visita guidata della nostra parrocchia. In occasione anche del fatto che a causa degli eventi del coronavirus non è possibile poter essere presenti in parrocchia tutti insieme.